Ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale e tv siti. Ettore del Greco aspira ad avere un altro parroco santo. Si è aperto oggi infatti il Tribunale per le cause dei Santi per Don Raffaele Scauda, parroco di Ettore del Greco che edificò la Madonna del Buon Consiglio e che oggi ha ottenuto il titolo di Servo di Dio nell'evento preseduto al Cardinale Sepe e in occasione dell'evento abbiamo ricordato vita e opere del parroco torrese definito babbo e nonno dagli orfanelli che curava e accudiva. E ora passiamo all'emergenza Covid con il punto della situazione sul Vesuviano. Boom di guarigioni a Torre del Greco con 181 cittadini che hanno sconfitto il virus solo ieri, ma la città non può gioire. Sempre ieri infatti sono stati registrati quattro decessi fra i cittadini. E ora parliamo di scuola con l'approfondimento di tv siti. Abbiamo incontrato i genitori di Torre del Greco, degli alunni di Torre del Greco e protestano contro la chiusura delle scuole alla didattica in presenza predisposta dal sindaco Palumba fino al 9 gennaio. E sempre parlando di didattica a distanza, il nostro approfondimento sulle evoluzioni della didattica telematica e sui nuovi metodi per fare informazione e per fare istruzione. Ne parliamo con Michele Langella, esperto del settore. Questo e molto altro nei nostri servizi. Ha testimoniato con le opere di carità la bella notizia del Vangelo. Si è aperta questa mattina nella cappella del Palazzo Arcivescovile di Napoli durante la liturgia della parola presieduta dal Cardinale Arcivescovo Crescenzio Sepe, la prima sessione pubblica del Tribunale regionale campano per le cause dei Santi, per il processo sulla vita, le virtù e la fama di santità, del servo di Dio Raffaele Scauda, sacerdote fondatore del Santuario Maria Santissima del Buon Consiglio di Torre del Greco e su un presunto miracolo avvenuto per intercessione della serva di Dio Angela Iacobellis con il giuramento dei componenti del Tribunale. Hanno saputo tradurre nella loro vita la bella notizia del Vangelo di essere non solo amici di Dio, intercessori presso Dio, ma testimoniare con le opere, le opere di carità come il Vangelo lo si può rendere vivo, presente anche ai nostri giorni. Sono due figure diverse da loro, uno sacerdote, un'altra una bambina, ma ognuno nel suo campo ha saputo dare una testimonianza di fede che vale soprattutto oggi in questi momenti così difficili. Qual è il messaggio che arriva dalla Chiesa in questo momento di prova che stiamo vivendo? Ecco, quello di non perdere la speranza come questi due candidati alla santità hanno saputo superare le mancabili difficoltà della vita, così anche noi in questo momento difficile non dobbiamo farci abbattere, ma nella speranza che Cristo è con noi, superare anche noi queste prove. Dopo Vincenzo Romano, la città di Torre del Greco aspira ad avere un altro parroco santo? Ecco, vede, è una città santa perché già Vincenzo Romano, adesso Scauda va bene, speriamo che continuino altri a seguire le loro orme e a fare di questa città un esempio di testimonianza cristiana. Un impegno pastorale, quello di Don Raffaele Scauda, contrassegnato da una forte devozione alla Madonna e dall'impegno per i bambini abbandonati e il contrasto alla povertà. Dopo la prima sessione pubblica di questa mattina, poi come proseguirà il processo? Adesso prosegue con un altro momento forte che faremo a breve di un mese con la consegna degli atti ai censori teologi e ai censori storici, ai periti storici, proprio per avviare la ricerca di questo materiale, edito e inedito. E poi c'è l'escussione dei testi, qui ci troviamo di fronte a una causa non recente perché morto nel 1961 è una causa storica, sono passati già più di 50 anni e passando i 50 anni ci sono delle testimonianze già date da persone che non sono più tra noi però hanno testimoniato e quindi sono passate già per il tribunale. Come si diventa Santi? Quali sono i gradi? Il grado adesso con questa apertura dell'inchiesta ordinaria diocesana viene dato il titolo di servo di Dio come avete visto dall'immaginetta. Poi dopo alla chiusura dell'inchiesta il materiale va portato in congregazione dei Santi a Roma e il postulatore che accompagna questo materiale e poi c'è l'apertura della validità degli atti e dopodiché si inizia la posizio che è il corpo di tutti gli atti processuali e si mette in cammino nella congregazione dei Santi per il riconoscimento delle virtù eroiche. Quando il Papa dà il decreto delle virtù eroiche e dopodiché ci vuole miracolo per la beatificazione e un altro miracolo per la canonizzazione. Chi era Don Raffaele Scauda e cosa ha fatto nella sua vita? Don Raffaele Scauda è nato nella diocesi di Nola quindi non apparteneva a questa diocesi ed è venuto a lavorare in questa contrata a Leopardi perché era una contrata abbandonata. Ha iniziato a costruire questo piccolo santuario con le offerte dei fedeli, con un soldo, la raccolta di un soldo. Dopodiché sono venute le suore che l'hanno affiancato per l'orfanatrofio e aveva più di 200 orfani. Il santuario è stato distrutto nella prima e seconda guerra mondiale ha avuto delle danneggiamenti ma è stato sempre ricostruito. Ha costituito un'apertura in questo santuario di accoglienza per le periferie esistenziali della povertà di allora e di oggi. Oggi in questo santuario c'è una grande mensa per i poveri. Non c'è più l'orfanatrofio, non c'è più questa accoglienza degli orfani ma c'è l'accoglienza delle forme di povertà di oggi. E quindi questa santità è legata non solo alla Madonna ma alla Maria come madre del buon consiglio e regina dei poveri. quindi apre le porte a un momento forte, storico, che stiamo vivendo come chiesa che è quella della fragilità umana a cui bisogna andare incontro con la tenerezza con la tenerezza di come questa foto che ho scelto per farlo pregare con la tenerezza dell'accoglienza dei bambini. Con l'avvio dell'inchiesta ordinaria diocesana a 59 anni dalla morte viene dato a Don Raffaele Scaudoa il titolo di servo di Dio un iter lungo che proseguirà con la raccolta delle testimonianze. Siamo all'inizio di un cammino quindi dobbiamo ora procedere alla rattolta delle testimonianze che già è stata fatta negli anni sentire qualche test che è ancora vivente è stato rattolto un po' di materiali scritti a edite e inedite perché a Santuare da vari anni sta lavorando bene un gruppo di lavoro che sta rattogliendo materiali ora lo dovremo esaminare e dovremo vedere anche dei testi ancora viventi di Don Raffaele proprio per cercare di ulteriormente ingrandire il dossier di notizie, episodi e cose varie. Qual è stato l'impegno di Don Raffaele Scaudoa? Proprio come l'ha ritornato Don Antonio Dinaldo nell'introduzione la forte devozione alla Madonna il titolo del buon consiglio e poi visto i tempi suoi dopo la prima guerra mondiale la seconda guerra mondiale per l'infanzia un po' più abbandonata quindi ha rattolto tanti bambini e quindi facciamo appello anche a tutte queste bambine alcune di loro sono ancora viventi di segnalare i loro nomi al rettore del santuario per poterle sentire se non l'hanno fatto già cercare di adempiere e rattogliere più notizie possibili durante la seconda guerra mondiale che ha visto il famoso bombardamento del 15 settembre 1943 il santuario completamente distrutto e una sola bambina morta quando lui ha avuto quella profezia di fare uscire tutti dal santuario e di inastondersi nelle lampagne e così si sono salvati moltissime persone della zona proprio grazie a Don Raffaele è stato possiamo dire uno dei primi segni che il Signore si è servito di questo servo buono e fedele ognuno di noi nella vita di tutti i giorni può aspirare alla santità tutti siamo chiamati alla santità l'ha detto pure il Papa nell'ultimo incidere sulla santità tutti possiamo essere santi dobbiamo fare come diceva San Vincenzo Romano bene il bene sono intervenuti anche il sindaco della città di Torre del Greco Giovanni Palumba e la dirigente dell'istituto Falcone Scauda Maria Iosè, abilitato un motivo di orgoglio è per la città e io sono presente come sindaco in questo momento con il cardinale e con tutti coloro che praticamente hanno giurato per la causa di beatificazione un momento importantissimo che sta vivendo la città ecco dopo San Vincenzo Romano adesso c'è un altro momento importantissimo per il nostro sacerdote Don Raffaele Scauda Nato a Torre Annunziata nel 1872 il servo di Dio Don Raffaele Scauda dedicò tutta la sua vita al servizio sacerdotale e alla cura della sua comunità di fedeli sin da piccolo sentì crescere la vocazione religiosa incentivata da una famiglia credente e serena fino a quando il 12 ottobre del 1884 indossò per la prima volta l'abito talare a soli 12 anni il giovane sacerdote si trovò a dover combattere con forze anticlericali nella sua città al punto da dover iniziare a celebrare la messa a Torre del Greco incontrata a Leopardi qui fece costruire la prima chiesetta con un altare sul quale inserì un quadro della Madonna che aveva sottratto alla famiglia così sorse la Madonna del Buon Consiglio che iniziò a crescere grazie all'offerta dei fedeli infatti nella costruzione della chiesa Don Raffaele Scauda ebbe come unico aiuto gli abitanti della città i quali sacrificavano le proprie ore serali dopo il lavoro per aiutarlo materialmente a mettere pietra su pietra l'impegno verso la sua comunità non fu fermato nemmeno dalla grande guerra costruì un piccolo orfanotrofio accanto alla chiesa affidato alle suore di Sant'Antonio e i Monti che curavano l'educazione religiosa l'addestramento al lavoro e l'istruzione degli allievi per le orfanelle ospitate Don Raffaele era considerato babbo e nonno la seconda guerra mondiale mise a dura prova alla comunità di Leopardi il 15 settembre del 1943 un bombardamento distrusse completamente l'orfanotrofio mentre rimasero in piedi i muri laterali della chiesa con le suore e le orfanelle Don Raffaele dovette nascondersi in una grotta alle falde del Vesuvio dove rimase finché la marchese De Cillis accolse tutti nella propria casa il 26 maggio 1961 introdusse per la sua comunità la festa delle rose una pioggia di pietari sui fedeli che simboleggia la pioggia di grazie della Vergine Maria una settimana dopo il 2 giugno si alzò una settimana dopo il 2 giugno si alzò per celebrare la Santa Messa anche se respirava fatica si spense poche ore dopo i suoi resti sono ancora oggi conservati nella chiesa che ha costruito solo grazie alla sua fede ad oggi Don Raffaele Scauda è servo di Dio ma è stata aperta la pratica davanti al Tribunale dei Santi che potrebbe portare alla sua beatificazione le guarigioni aumentano vertiginosamente a Torre del Greco 181 i cittadini guariti dal virus e 34 i soggetti risultati positivi nella giornata di ieri ha testato inoltre il passaggio di due soggetti positivi dall'isolamento domiciliare al regime ospedaliero comunicati 4 decessi un cittadino classe 1946 e 3 cittadini classe 1955 migliora dunque il bilancio dei casi a Torre del Greco sono 479 cittadini attualmente positivi di cui 29 ricoverati 1699 guariti e 52 decessi sono molti i guariti registrati ieri a Castella Mare di Stabile nella giornata di ieri 55 cittadini hanno sconfitto il virus tra questi anche un bambino di 9 mesi accertati inoltre 21 casi di positività su 125 tamponi effettuati di cui solo un soggetto presenta sintomi lievi si abbassa dunque la percentuale di positività rispetto ai tamponi seguiti nella città che vede un miglioramento della curva di contagio sono 1522 gli attuali positivi 989 le guarigioni e 27 i decessi continuano la discesa nella curva di contagio a Ercolano sono 580 i cittadini attualmente positivi nella città con 7 casi accertati a fronte dei 29 guariti negli ultimi due giorni segnali incoraggianti annuncia il sindaco Ciro Buonaiuto ma continuano a invitarvi a non abbassare la guardia utilizzo della mascherina distanziamento sociale non assembramenti e lavarsi sempre le mani Scuola in presenza è il nome del comitato cittadino nato di recente a Torre del Greco per dar voce ai genitori che chiedono alle istituzioni la ripresa delle attività didattiche tra i banchi e non più a distanza la linea di cautela promossa dal primo cittadino Giovanni Palomba ha dunque deluso le aspettative di una parte dei genitori che a seguito dell'ordinanza regionale avevano sperato in un graduale ritorno in classe almeno per le prime classi della scuola primaria che soffrono maggiormente dei disagi legati alla didattica via web e della scuola dell'infanzia socialità e rendimento didattico sono gli argomenti che spingono questi genitori a battersi contro la scelta prudente del sindaco Palomba abbiamo ascoltato ai nostri microfoni Clementina Sasso astrofisica di Torre del Greco e rappresentante dei genitori del comitato e Vincenzo Izzo consulente del lavoro e padre di un bimbo con disturbi dello spettro autistico che ha voluto evidenziare le innumerevoli difficoltà legate alla gestione didattica e socio-relazionale del suo bambino con esigenze speciali mio figlio rientra in un disturbo dello spettro autistico quindi lui toglierci da 4 anni a 5 anni la relazione con gli altri bambini cioè fai prima spararlo queste problematiche non sono proprio state prese in considerazione bambini dislessici bambini con ritardi cognitivi sindrome di Down quello che fa la scuola per questi bambini è stato totalmente accantonato purtroppo siamo in una pandemia e quindi il rischio c'è in entrambi i casi sia a tenere i bambini a casa che a mandarli a scuola questi due rischi che sarebbero appunto da un lato quello che si potrebbe infettare a scuola e dall'altro il lato che invece rimanendo a casa potrebbe subire appunto i danni che abbiamo visto e che Vincenzo ha espresso chiaramente e quello che si deve fare è mettere entrambi i danni sullo stesso piano non parlare solo sì ma se va a scuola può prendere il covid e lo può portare a casa perché prima di tutto la probabilità che appunto venga infettato a scuola con le misure di sicurezza adottate e noi abbiamo chiesto anche al sindaco parliamone ragioniamo insieme su queste misure di sicurezza e implementiamole se c'è ancora paura insomma la probabilità che ci sia un contagio a scuola sui bambini e tra i bambini che i bambini lo portino ad un adulto è più bassa rispetto alla probabilità che un bambino possa subire un danno dal punto di vista psicologico sociale e insomma comportamentale sabato saremo a piazza santa croce dalle 10 e 30 con un presidio per proprio esatto per fare informazione e spiegare le nostre motivazioni noi ci teniamo tanto a dire che non siamo assolutamente contro chi non vuole andare a scuola per paura ma vogliamo aprire un dialogo per far comprendere tutto quello che abbiamo spiegato finora nuove tecnologie per un futuro digitale da un po' di anni la formazione ha adottato un nuovo modo di comunicare alle telecamere di tv city Michele Langella esperto nel settore della formazione telematica come è cambiato questo settore negli anni ormai tutti scuola e università hanno abbracciato le nuove tecnologie questo per garantire il diritto allo studio perché solo attraverso il diritto allo studio ci si sa un innalzamento culturale un innalzamento del benessere e una riduzione delle frizioni sociali anche i tecnoscettici oggi hanno gettato la spugna oggi il modo di fare formazione è cambiato ma qual è il vero rischio di una didattica telematica prima si parlava di vecchi anfiterati del sapere refrattari all'innovazione al digitale all'industria 4.0 a quelle che erano i nuovi linguaggi ibridi e contaminativi oggi non è più così sicuramente il garantire il diritto allo studio è una didattica in via telematica a tutti è stato poteroso ma dall'altra parte per poter fare una buona didattica a distanza c'è bisogno di una tecnologia tale da permettere agli studenti di avere una didattica sia erogativa che interattiva e inoltre abbiamo necessità di rispondere a quella che è la problematica del digital divide ci sono ancora pezzi del nostro paese in cui non abbiamo collegamenti veloci ed adeguati per poter garantire appunto questo trasferimento del sapere come è cambiata la formazione telematica con questo tempo questo periodo di pandemia sicuramente questa pandemia questa crisi ha portato a tutti ad avere un approccio molto più fluido verso la tecnologia ed è per questo che sia docenti che discenti devono riformare quelle che sono le proprie competenze per poter affrontare al meglio quelle che sono le sfide del futuro purtroppo in Italia la formazione non è vista come un investimento ma è vista come un costo si fanno tanti programmi sull'innovazione tecnologica eppure si investe poco oppure nulla il concetto di digital transformation deve investire non solo le aziende ma anche i lavoratori della pubblica amministrazione e della pubblica istruzione poiché si vuole dire tutto sul futuro ma che non è già scritto scriviamolo bene insieme grazie per la cortesa attenzione per info e segnalazioni potete contattarci alla mail redazionichiocciolatvcity.it o al numero di telefono 340-6561-484 e con questo è veramente tutto io vi saluto e vi do l'appuntamento a domani grazie a tutti Autore dei sovrapposti